Buongiorno, buongiorno a tutti dalla stazione, oggi sono in partenza, vedrete poi su Instagram dove sto andando quindi seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione ma devo dare un messaggio a tutti i milanisti, sì perché oggi non parto solo io, non vado in America con i ragazzi ma partirà anche la tournée del Milan domani e oggi tra l'altro mi pare che giochi con l'Umezane quindi iniziano le amichevoli, iniziano i testi, iniziano i giudizi e quindi io mi devo fare portavoce di un qualcosa di importante e devo dare un messaggio a tutti i milanisti innanzitutto sono contento che il Milan abbia fatto quello che auspicavo nel video di due giorni fa ovvero prendere una posizione netta, drastica nei confronti di chi è fuori progetto quindi Rebic, Orighi, Balloturé e pare anche Caldara che non partiranno per gli Stati Uniti d'America l'abbiamo detto nello scorso video, era doveroso fare una scelta era importante farla in questo modo netto non si può andare avanti col mulino bianco quindi se tu vuoi che un giocatore non faccia parte più della tua squadra la prossima stagione glielo devi dire chiaro e tondo glielo devi far capire, lo devi mettere alla porta poi starà alle ambizioni di Rebic, alle ambizioni di Orighi, alle ambizioni di Caldara alle ambizioni di tutti gli altri capire diciamo il da farsi per il proprio futuro oggi parte la prima amichevole con Lumezzane e il messaggio che io voglio mandare tramite questo video è guardatele le amichevole se volete guardarle guardatele se volete vedere i nuovi gli spunti, avere degli spunti fatelo, siete liberi di farlo a me non piacciono, non le guardo neanche le amichevoli guardo poi diciamo le fasi salienti ma non mi metto lì a guardare le due ore di amichevoli a meno che stia proprio a casa a fare un cazzo però vi prego vi prego almeno voi della mia piccola community di Youtube della mia community di Instagram, Twitter, TikTok vi prego non fatemi leggere giudizi non fatemi leggere giudizi sulle amichevoli perché le amichevoli servono per capire servono per preparare la stagione quindi se voi vedrete domani o stasera con Lumezzane un 4231 non è detto che sarà il modulo della stagione perché innanzitutto non è tutti gli interpreti da subito o alcuni non sono in forma il mercato non è completato ma soprattutto le amichevoli servono a questo servono a sperimentare se tu non sperimenti nelle amichevoli quando devi sperimentare in camionata di Champions League no quindi tu nelle sezioni di amichevoli provi tutto provi il 4231 provi il 433 provi il 442 provi il rombo provi l'albero di Natale devi provare tutto tutto ovviamente in base alle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione però non vuol dire che se voi stasera con Lumezzane vedete il Milan messo con un 4231 o con un 442 atipico o con lo stesso 423 che io ritengo che sarà il modulo della prossima stagione ciò voglia dire che quello sarà il modulo del Milan le amichevoli servono per sperimentare in più anche già lo so arriverà il giudizio se cambierà più moduli o cambierà più interpreti di dire pioli alle idee confuse no! sta sperimentando ascoltatele le parole di Reinders nella giornata di ieri Reinders dice una cosa molto importante dice io ho scelto il Milan perché qui giocherò nella posizione in cui mi piace giocare questo cosa vuol dire? che il Milan quando ha preso Reinders gli ha già parlato di posizione gli ha già parlato del ruolo che andrà a ricoprire nel Milan quindi le idee confuse ce le possiamo avere noi tifosi che non capiamo che siamo esterni noi opinionisti ma il Milan quello che conta è che il Milan sul mercato sul modulo di gioco ha le idee chiarissime ha le idee chiarissime e quello a noi deve interessare quello deve interessare perché negli anni passati io dopo le amichevoli che il Milan magari perdeva arrivavano giudizi trancianti giudizi definitivi sui giocatori se oggi Pulisic dovesse far male con la Lumezzana non si dovesse far male quello è gravissimo se dovesse far male non iniziamo a dire abbiamo preso un bidone abbiamo preso... no perché magari ha fatto un allenamento particolare perché è in uno stato di forma in cui sta facendo una preparazione particolare sono mille cose che sanno solo gli addetti ai lavori quindi va bene guardiamoli agli amichevoli ci possono sicuramente dare delle indicazioni ma non iniziamo a dare giudizi questo è il messaggio che io vi voglio mandare perché gli anni scorsi soprattutto poi nella sessione estiva col calciomercato ancora aperto veramente arrivavano messaggi di ogni genere che non sono disposto a sopportare benché meno con questo caldo guardate quanto mi sto sacrificando per mandarvi questo messaggio sono su run l'acroubatesimo quindi fate sì che questo messaggio vi arrivi interiorizzatelo fatelo vostro il Milan inizia questa tournée estiva secondo me con il massimo della fiducia è la squadra che oggi ha fatto di più sul mercato in Italia ed era doveroso farlo perché l'anno scorso da campione d'Italia in carica sei arrivato quinto in classifica quindi hai dovuto fare un all-in hai dovuto fare una rivoluzione ci saranno delle uscite perché il fatto di aver messo Rebic e Orighi alla porta indica che ci saranno delle uscite ci saranno altre entrate magari nomi che non sono ancora usciti ad esempio Dajuma oggi mi dicono essere vicino all'Everton quindi tutta questa costruzione che c'è stata intorno a Dajuma alla fine è tramontata ma purtroppo il Villareal ha delle pretese come ce l'ha su Chukweze che non sono compatibili con il mercato cioè se Chukweze se Dajuma scusate ha fatto un'annata disastrosa al Tottenham per quanto tutti l'abbiano fatta disastrosa col Tottenham tu non puoi pretendere di darlo via con l'obbligo di riscatto io ti rispondo tienitelo anche se mi può servire ma tienitelo perché io non posso sobbarcarmi l'obbligo di riscatto e quindi ritrovarmi un altro Rebic tra un anno io te lo prendo facciamo un diritto con a determinate condizioni gol, presenza non lo so scatta l'obbligo ok ma l'obbligo punto tienitelo così come Chukweze un giocatore a scadenza io non te lo pago 35 milioni devi scendere dici ma quello poi a zero Luca non lo prendi sti cazzi quanti anni ha il Milan 120 122 abbiamo giocato 122 anni senza Chukweze giochiamo pure 123 arriviamo pure a 150 cioè non bisogna cedere allo strozzinaggio di determinate società come anche il Porto che ne vuole 20 per Taremi Morata che ne vogliono 20 cioè sono dei parà il Milan è chiaro è molto chiaro questa è la cosa più bella che abbiamo da quando c'è Furlani molto chiaro il Milan ha una valutazione del giocatore il Milan ti fa un'offerta può essere chiaramente la forbice dell'offerta può aumentare come è successo per Reinders però se tu un giocatore lo stravaluti te lo tieni cioè non pensare che fai i giochetti la dichiarazione mediatica per forzare arriva l'altra squadra e scatena l'asta col Milan se cose non funzionano poi qualcuno vuole scrivere Milan beffato scrivi quello che vuoi ho letto anche di Dajuman hanno scritto Milan beffato perché secondo loro se il Milan voleva prendere Dajuman non lo poteva prendere quando una squadra decide di non spendere determinati soldi per alcuni calciatori non è beffata è una squadra che si è tirata indietro però capisco che fa comodo scrivere che ci sono squadre che si tirano indietro quando è il giocatore che sceglie di andare da un'altra parte per qualsiasi motivo mentre fa più figo scrivere Milan beffato ma noi siamo abituati noi milanisti siamo abituati a leggere e subire determinate cose comunque quello che io vi volevo dire al di là del mercato divagato un po' era che guardatevele alle amichevoli per carità non sono nessuno per dirvi di non guardarle e che sicuramente delle indicazioni le possono dare ma non iniziate a dare giudizi giochiamo così giochiamo colì questo non è buono questo è buono perché non indicano nulla ricordatevi la scorsa estate Adli è stato il migliore degli amichevoli in campionato non ha visto il campo poi possiamo attaccarci che Pioli non lo vede però è un amichevoli lo vedeva quindi sintomo che amichevoli le giocava perché magari non c'era qualcun altro sintomo che magari in quel periodo stava benissimo quindi non diamo giudizi trancianti in base alle amichevoli questo è quello che vi volevo dire fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale apprezzate il bagno di sudore che mi sono fatto io adesso parto ripeto seguitemi su Instagram per capire dove sto andando ci saranno altre influenze insomma una situazione sfiziosa seguitemi su Instagram Twitter TikTok vi aggiorno lì iscrivetevi al canale se siete già iscritti attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi neanche un aggiornamento sui miei video e non solo mettete mi piace al video e commentate con la vostra opinione a riguardo di tutto ciò che ho detto situazione e mercato ma soprattutto il messaggio che ho voluto mandarvi a discapito della mia salute forza Milan Grazie a tutti i nostri spettatori